ok bene prima di andare a vedere come gestire gli eventi molti hanno detto c'è l'onclick aspetta comincio a gestire va bene lo facciamo tra un attimo però prima visto che abbiamo preparato tutto e grazie al vostro collega ve li ho anche messi online sul github quindi ho fatto il commit nella pausa quindi trovate i due file su cui sto lavorando nel github se avete il computer volete giocare un pochino per quanto vostro facciamo che scriviamo qualcosa dentro script che ci modifichi il nostro DOM e che non sia proprio una roba banale appunto come prima abbiamo cambiato una classe, facciamo qualcosa un po' più interessante vi propongo di fare questa cosa, ossia dove è? ecco adesso dobbiamo poi togliere adesso non parte già più ok allora nel script togliamo questa riga che diciamo serve a niente ma andiamo a scrivere qualcosa periodicamente nel contenuto della pagina così cominciate sperabilmente a apprezzare la potenzialità di scrivere il codice nella pagina dove è? ecco tipo ci metto l'ora qui in basso a sinistra ma non l'ora è basta di quando ho caricato la pagina l'ora che si aggiorna ok? ovviamente l'ora locale del computer però questo ci consente di dire due o tre parole su su alcune cose che ci servono quindi allora come faccio? allora io ho il codice javascript viene caricato all'interno della pagina e ho bisogno di un posto dove andare a mettere questa ora no? quindi la prima cosa che devo fare è trovare il nodo che poi devo andare a modificare no? come ho fatto prima ho il mio get element by id quindi avrò il mio document get element by id no? che è la cosa più semplice perché se voi date un id fate posto nell'html date un id e lo agganciate subito quindi lo facciamo diciamo che io lo scrivo qui in fondo eh? l'avevo fatto ah l'avevo già preparato va bene ho messo questo div id time ok? quindi ho un div dentro il quale posso mettere quello che mi pare quindi se scrivo qualcosa prova giusto per vedere e compare lì sotto prova adesso lo tolgo prova e prova a scriver aggiornarlo da codice quindi avevo messo time ok? quindi diciamo che questo lo lo chiamiamo boh no non abbiamo bisogno di chiamarlo in qualche maniera diciamo questo è l'elemento sul quale poi andrò a fare eh cosa faccio ehm vabbè dipende da cosa cosa creo lasciamolo un attimo lì allora creiamo un paragrafo ok? sempre bene di solito fare il paragrafo è un elemento di quelli che poi vanno a capo quindi un elemento di tipo block se vi ricordate cosa abbiamo detto l'altra volta quindi è un rettangolo non è solo testo come facciamo document create create element e lo facciamo di tipo p ok? quindi questo è il nome del tag lo diamo net p uguale ok p innertext abbiamo detto l'innertext diciamo ci risparmiamo di creare l'oggetto test eccetera e non so 2023 eccetera eccetera ok? questo lo potrei scrivere io va bene dai 0 3 cos'è oggi? 28 ok? e poi e poi faccio faccio un metodo dunque cos'era? non so se funzionava la append child p vediamo cosa viene fuori quindi no va bene c'è qualcosa che non va così intanto ne approfittiamo per debuggare eh quando c'è qualcosa che non va andate ad aprire la console andate a vedere cosa c'è scritto uh questo è triste cosa che è successo esce forse non ho ricaricato bene si boh quando ha scaricato bootstrap mentre ricaricava boh è successo qualcosa ok è comparso ok va bene avrà avuto un problema di rete mentre scaricava questa roba ok infatti dovrebbe funzionare andiamo a vedere come è fatto il div p va benissimo eh è quello che voglio adesso cosa vorrei fare vorrei che la data non la scrivessi a mano ma la vorrei diciamo calcolare no quindi tirar fuori da codice allora noi abbiamo il nostro dayjs che vi abbiamo consigliato di usare e quindi diciamo che la data net di uguale oppa mettiamolo sotto vado a scrivere sotto let let di uguale dayjs ok format e ci mettiamo la nostra stringa mettiamo anche ore minuti e secondi che si scrivono così se no cercate se non sapete ok p inner text quindi uguale a d la nostra stringa ovviamente adesso però dayjs la faccio require se la vostra qualcuno prima ha fatto require ma ha fatto vedere non funziona adesso vediamo come fare perché qui non siamo in node qui questa roba va a finire dentro il browser il browser non ha il require e se voi scrivete require qui come succedeva appunto a chi mi ha fatto vedere viene fuori un errore nella console ma adesso ci viene fuori un errore lo stesso perché dayjs non esiste io ve lo faccio vedere giusto così non viene più scritto fuori niente lì in basso e dayjs is not defined no ma è vero però se scrivete require non avete risolto il problema require è la maniera di risolvere il problema in node dopo che avete installato il pacchetto dayjs qui dobbiamo usare un approccio diverso come facciamo a caricare codice delle librerie in in questa configurazione browser html e js nostro dobbiamo andare nell'html e facciamo come abbiamo fatto per caricare il js di bootstrap ok quindi adesso voglio solo vedere se ho cambiato il nome del file così si cambiamo il nome del file ma prima di fare queste modifiche così vi viene mi viene fuori copia incolla diciamo il qa quello ben fatto quindi adesso poi apriremo il qa script script defer src src uguale e cosa scriviamo in src allora scriviamo una cosa simile a quella di prima di bootstrap ci sarà qualcuno cortese in rete che ci ha messo a disposizione su una cdn cioè in un posto dove tutti possono scaricare liberamente la libreria da ijs sperabilmente si scritto così ci sarà ve la copio se no lo cercate in rete comunque non abbiamo tante librerie a importare nel momento in cui portiamo da ijs diciamo per il prossimo laboratorio abbiamo finito ok poi quando andiamo su react ci ritorna tutto il meccanismo dell'npm eccetera non abbiamo più questo problema fa tutto react per noi per cui è l'unica volta che abbiamo bisogno di questo meccanismo quindi vi faccio vedere come si fa dove è andato sarà in qua eccola qua la copiamo ce la copio e poi ve la faccio vedere vi faccio anche subito il commit così ce l'avete quindi scriviamo la stessa cosa formato e me lo metto a capo non c'è l'ash qui sarebbe meglio mettere l'ash ma diciamo che diciamo per il nostro esempio per ora ci accontentiamo tanto poi appunto stravolgiamo tutto quando andiamo su react per cui come detto questa lezione è un po' una lezione di transizione verso react e vi faccio il commit così ce l'avete prima verifico che funzioni quindi qua base lo buttiamo qua ce l'abbiamo dobbiamo provare qua ok ok c'è la data e l'ora corrente ok non aggiornata perché nessuno gli ha detto di aggiornarla però almeno non c'è l'errore allora vi faccio il commit così avete il js pronto qua hoppla qua html con dei js push ok mentre fa il push quindi questa è la maniera di portare dentro dei js nel nostro script in realtà non lo mettiamo nel nostro script lo mettiamo nei tag script del browser perché perché poi così va a disposizione nello scope globale e noi possiamo usarlo quindi è una maniera un po' grezza me ne rendo conto nel senso vi sto dicendo questo script praticamente crea un oggetto globale dai js sperando che nessun altro abbia avuto l'idea di creare l'oggetto globale dai js però nel prossimo script ce l'abbiamo a disposizione e il prossimo script è il nostro e quindi nel nostro script possiamo poi scrivere dai js come siamo stati abituati a farlo in node nelle altre lezioni ok quindi abbiamo fatto l'ora corrente va bene se non c'è sul commit ditemelo non verifico sempre però alzate la mano ditelo se ricarichiamo la pagina adesso l'ho ricaricata si si aggiorna l'ora giusto ogni volta che ricarichiamo la pagina rieseguiamo il js il js va dentro il browser da day js ci viene fuori l'ora corrente notate l'ora corrente del browser quindi è quella del computer non è l'ora corrente diciamo esatta o recuperata chissà dove ok vorrei fare ancora una modifica no facciamola aggiornare automaticamente così mettiamo insieme quello che abbiamo visto prima c'è l'event loop c'è una callback e ci sono tutte queste cose qua io ho codice ho il codice che può modificare quello che c'è scritto nella pagina il contenuto e quindi devo solo mettere insieme tutte queste idee quindi come faccio a fare questa operazione e allora sappiamo sappiamo creare un meccanismo un timer un qualche cosa che periodicamente viene eseguito si l'avevamo visto c'è la set timeout ma visto che qui voglio che sia eseguito periodicamente uso la set interval così avanzo di risettare la set timeout ogni volta che viene eseguito il mio codice set timeout esegue una cosa una volta dopo un certo periodo di tempo io ogni secondo voglio aggiornare l'ora quindi voglio che sia eseguita una mia funzione se la faccio con la set timeout funziona una volta se la faccio con la set interval funziona finché non dico basta ok allora set interval il visual studio code è così cortese che ci ricordi i parametri handler quindi la callback qual è la callback? la callback è questa cioè no scusate non è questa devo ricalcolare il il p quindi è quella di sopra dei js format quindi questa roba qua e questa viene fuori una stringa la metto dentro inner text di che cosa? dell'elemento che mi interessa p inner text ok occhio che non ho ancora risolto tutto perché qui questo vuole un handler un handler cos'è? è una funzione questa è una chiamata di funzione se io voglio passare una funzione una funzione la devo creare cioè devo dire funzione se non ha parametri non ha parametri freccia aperta graffa quello che volete e poi faccio la mia azione virgola ogni quanto e va bene mille millisecondi e qui non è che c'è tanto da discutere ok quindi a questo punto però devo sistemare un po' di cose nel senso che vorrei che questo sia fatto prima quindi quindi mi creo il p il d ce lo metto dentro in inner text append child e poi ho questo p di cui ho il riferimento che posso modificare nel setinterval e dovrebbe andare no giusto qualcuno non è convinto quindi diciamo l'assetto io inizialmente e poi col setinterval ogni secondo ci sarà una callback che dovrebbe impostarmi il nuovo valore periodicamente vediamo se funziona allora ricarico la pagina va bene un po' lento tutti sono a scaricare è lento dobbiamo aspettare oh si è piantato no non ho errori boh ricarichiamo ok e la rete è un po' lenta siccome noi importiamo dalla rete bootstrap e dei js eccetera dobbiamo avere pazienza o ce le ha nella copia locale oppure le deve riscaricare ecco avrò sbagliato qualcosa p inner text snota function infatti non funziona quindi andiamo a vedere cosa c'è che non va p inner text dei js ah p inner text uguale dei js format ok va bene ma così proviamo un po' di errori unica cosa che è un po' scomodo perché essendo lento no adesso ci siamo c'è questa ora che si aggiorna da sola ok ho scritto del codice il codice periodicamente chiama una callback che va a fare delle azioni e mi modifica il DOM mi modifica solo una parte di testo che è quella dove c'è scritto l'ora ma intanto ho fatto qualcosa diciamo così di un po' più dinamico di quello che facevo finora ok quindi mi raccomando provate a pensarci un pochettino a ragionarci sopra se volete fare delle modifiche provate vi metto online anche questo già che ci siamo cos'era la quascript quindi quascript quindi ora che cambia e adesso cerchiamo di agganciare degli eventi un po' più interessanti perché va bene gli eventi autogenerati come i timer quindi diciamo periodicamente viene richiamata la mia callback vado a chiedere che ora è la transformistring la metto lì va bene per carità nulla di male questa continua a funzionare il timer a questo set interval io non ho preso il valore di ritorno perché tanto non volevo mai fermarlo quindi non mi interessa se avessi voluto fermarlo dovevo avere l'handle quindi questo id che ritorna la set interval e poi farci qualcosa non so verificarsi una condizione o un click non lo so quello che voglio ok cerchiamo di fare qualcosa di più interessante per fare qualcosa di più interessante dobbiamo imparare a gestire gli eventi nel browser ok ed è quello che facciamo in questa ora scarsa che ci rimane ok allora javascript usa un meccanismo event driven un modello di programmazione event driven che vuol dire che una volta che ha eseguito tutto il suo codice al caricamento come quello di bootstrap come quello che abbiamo messo noi e così via aspetta e lì con questo event loop in attesa che ci sia qualcosa nella coda delle callback da eseguire noi adesso abbiamo appena fatto in modo che ci sia ogni secondo qualcosa ma diciamo possiamo anche avere altre cose che rispondano a degli eventi dicevamo la cosa più classica è il click ok quindi event ce ne sono tantissimi ne vediamo tra poco sono generati da un elemento della pagina ok nel DOM a meno che non siano creati dall'ambiente come abbiamo appena fatto noi adesso col set interval quindi l'evento è fondamentalmente metti in coda la callback quando è scaduto il timer ok però tutti gli altri eventi nel browser sono generati dall'ambiente del browser e hanno un certo tipo e adesso specifichiamo un po' meglio come si fa a agganciarli dobbiamo sapere il nome dell'evento e dobbiamo mettere del codice quindi passare una callback a una funzione apposta che si chiama ad event listener che possiamo chiamare su qualsiasi nodo del nostro DOM ok o addirittura su alcuni oggetti particolari come facciamo qui su window nel browser possiamo anche aggiungere certi eventi ovviamente non è che tutti gli eventi sono disponibili dovunque ci saranno degli eventi che hanno senso sulla window degli eventi che hanno senso sui nodi e così via clic tipicamente ha senso sui nodi però il load per dire ho finito di caricare la pagina ha senso sulla window e così via ok come funziona la callback che noi dobbiamo passare lo sapete che le callback diciamo come sono fatte dipende da chi ha scritto la funzione che le riceve quindi l'add event listener prevede che la callback riceva come parametro un valore che è l'evento quindi ci sarà un oggetto evento che ci viene passato alla callback che ci dà le informazioni sull'evento ok per esempio nell'evento del mouse down quindi qualcuno ha premuto un tasto ci verrà detto con una proprietà apposta button qual è il tasto premuto ok e come faccio a saperlo devo andare a cercare sul manuale come sempre ma noi vediamo le cose principali sulle slide poi quando avete bisogno cercate ecco categorie di eventi ci sono eventi di tutti i tipi quindi noi non useremo tutti questi eventi a noi fondamentalmente interessano oggi il load perché facciamo un piccolo esperimento ma poi non ci interesserà neanche più quello fondamentalmente ci interessa il click ogni tanto il submit il change sicuramente quando un campo di input cambia perché per come gestisce react queste cose ci interessa e e basta quindi è pieno di eventi se voi avete bisogno di agganciare certi particolari eventi eccetera potete fare però questi sono i tre o quattro che noi andremo a vedere ok molti eventi hanno un comportamento di default ho già detto prima il click se fatto su un elemento attivo della pagina per esempio il link fa sì che il browser carichi il link quindi dobbiamo fare attenzione se è quello che vogliamo oppure no se è quello che vogliamo possiamo lasciarlo stare se però non lo vogliamo dobbiamo mettere nell'event handler quindi nella callback che noi passiamo che aggancia l'evento un'istruzione particolare che dice prevent default cioè non fare l'azione di default del browser per esempio se noi quando clicchiamo su un link non vogliamo che il browser carichi il nuovo link ma per qualche motivo lo vogliamo gestire noi vogliamo cambiare il colore vogliamo fare non lo so qualsiasi cosa dobbiamo fare prevent default l'altro posto tipico dove volete fare prevent default è nei form quando c'è il bottone submit non volete che faccia submit se no vi ricarica la pagina e non è lo stile di programmazione che desideriamo noi con le single page application noi carichiamo la pagina all'inizio e basta e non vogliamo che il browser vada a navigare da nessun'altra parte è tutto gestito con il nostro codice javascript o meglio sarà gestito con il nostro codice javascript ok va bene ci sono gli eventi della pagina html diciamo la load è quello che ci potrebbe servire se abbiamo tempo lo guardiamo fondamentalmente a noi interessano i click e l'input dell'utente perché sono una maniera più semplice di interagire con la pagina quindi due parole sui form il form è un tag apposito di html che c'era già fin dalle prime versioni che consente di dire che tutto ciò che sta dentro il form viene preso dal browser e viene inviato al server in un certo formato codificato per poter fare in modo che l'utente possa interagire con un server usando dei suoi dati dati scritti dove nelle caselle di testo nei vari controlli checkbox bottoni e così via che seleziona all'interno del form il form ha degli attributi una action sarebbe l'url da caricare questo diciamo è l'html standard noi non andremo come detto prima mai a ricaricare un url quindi useremo il form ma solo per dire contiene i vari elementi con cui l'utente interagisce e agganceremo l'evento di submit faremo prevent default non andiamo a caricare un'altra pagina ma ci gestiamo tutto noi nel nostro codice javascript va bene il metodo get o post va bene di solito è post ma su questo torniamo id eccetera l'id serve per agganciarlo dal codice javascript esattamente come prima perché se io devo fare agganciare un evento al form cosa faccio faccio get element by id user data ho il riferimento al form e poi ci faccio add event listener e ci metto il mio listener quindi la funzione sul submit event prevent default ok e poi tutto il resto che voglio ok comunque noi adesso guardiamo rapidamente queste slide e poi proviamo visto che abbiamo già i bottoni nello scheletro della pagina proviamo a mettere qualcosa che faccia funzionare un pochino questi bottoni e così via ok quindi ci sono diversi tipi di elementi che possiamo usare all'interno del form in linguaggio tecnico si chiamano controlli nel form questi elementi li chiamiamo controlli sono i controlli del form che sono degli input quindi delle caselle di testo caselle in cui possiamo dare dell'informazione insomma un colore piuttosto che una data e così via meccanismi di selezione checkbox piuttosto che altri bottoni e poi degli elementi di supporto va bene insomma il tag più usato è input che si visualizza in tante maniere diverse a seconda di come lo decliniamo quindi è un type che lo farà apparire in modalità molto diverse secondo di cosa ci mettiamo la più classica è il text ma l'altra classica è password cosa ha di diverso semplicemente che quando scriviamo viene fuori l'asterisco il pallino piuttosto che il testo per il resto uguale e così via quindi il value è un qualcosa che noi possiamo diciamo no scusate il text è quello che noi possiamo modificare per quando creiamo la pagina per farlo diciamo comparire in diverse modalità e il value è una proprietà del nodo input nel dom che ci dirà cosa è stato scritto cosa c'è in quel momento nella casella scritto dall'utente ok ho scritto da noi all'inizio e poi modificato dall'utente e così via è il valore che c'è in quel momento nella casellina posso andare ad agganciare diciamo questi valori come meglio credo get element by id oppure in document c'è una proprietà forms che mi condivano tutti i form è una lista può essere indirizzato con un numero può essere indirizzato con un id che è l'id che abbiamo messo prima e così via insomma tutte queste cose sono un po' dei dettagli a noi interessa più che altro capire il concetto e andare a fare qualche prova quindi questo è l'input tanto per dirvi si questo è mdn quanti tipi ci sono input type bat input type text c'è la password c'è il checkbox c'è il colore la data eccetera ce ne sono tanti ok più utili meno ut più usati meno usati alcuni solo html5 ma noi va bene tutto quello che è html5 va bene oramai tutti i browser supportano html5 diciamo che non ci faceva problemi in questo senso radio button search tell eccetera eccetera va bene ecco attributi comunemente usati quindi ogni tag html dei controlli del form ha tutta la sua serie di attributi che dobbiamo un po' conoscere ma diciamo che l'input fa l'80% di quello che dovete fare in form quindi una volta che conoscete l'input avete gestito quasi tutto quindi check don't check se si può cliccare disabilitato ho attivato read only nel senso che c'è ma non non posso editarlo va bene required eccetera size size è più di aspetto voglio la casella più grossa più piccola il valore e l'abbiamo già detto prima che è importante perché questo ci serve per agganciare il contenuto e altri che al bisogno potete andare a cercare ci sono altri attributi che dipendono dal tipo di controllo è chiaro che se che so metto un numero posso specificare un minimo massimo eccetera perché così diciamo nel momento in cui interagisco il browser può limitarmi quello che posso fare e così via che non vuol dire che poi non devo più controllare che effettivamente sia stato limitato eccetera quando sarò sul server e così via però diciamo che a livello dell'interfaccia che so volete il come si chiama il codice di avviamento postale il cap in Italia sono 5 cifre mettete numero uguale a 5 no scusa text con 5 caselle e non potete scriverne 6 no il codice fiscale sono 16 caratteri e così via no ed è una comodità no perché se ne state scrivendo 6 l'utente dice ma perché non si può avrò sbagliato guardo cosa c'è che non va eccetera ok ma queste cose io direi che potete guardarle perché se no non riusciamo più a fare gli esempi ecco facciamo solo attenzione che l'aspetto di questi form non è standardizzato ed è il motivo per cui ci viene molto comodo avere un framework sotto perché se no il default di il default di di mozilla di firefox è diverso da chrome che è diverso da safari che è diverso da non so che altro browser usiate ok se uso un framework molte di queste cose mi vengono messe a posto automaticamente hanno cercato di farmi un aspetto abbastanza uniforme tra i vari browser va bene option select ma queste cose qui le guardate al bisogno io direi non ci perdiamo tempo ecco vale la pena di dire due parole in più sul tag button perché c'è anche input type uguale button quindi c'è il tag input che può diventare un bottone ma c'è anche il tag button noi tendenzialmente useremo il tag button perché perché è un po' più comodo nel senso che dentro button possiamo scriverci qualcosa add to favorite piuttosto che metterci un'icona piuttosto che fare varie cose che con input type uguale button non possiamo fare ok questa è una comodità più che altro i bottoni funzionano poi nella stessa identica maniera nel senso che gli eventi sono gli stessi e così via però diciamo sono un po' più comodo addirittura possono apparire neanche come dei bottoni e questo dipende dal framework che usiamo come decide di farci visualizzare il bottone piuttosto che le classi del framework che noi abbiamo messo collegate a questo bottone che quindi ne cambiano l'aspetto come noi vogliamo ok l'aspetto va bene l'abbiamo detto e quindi usiamo un framework e molti di questi problemi sono risolti diciamo da principio l'avete visto noi abbiamo visto solo questo questo qui però è già messo ben a posto se lo apro in chrome dovrebbe avere più o meno lo stesso aspetto se metto il default firefox e chrome sono abbastanza simili ma magari prendete un browser diverso e vi trovate un aspetto un po' più un po' diverso ok va bene quindi usate bootstrap questo è il messaggio eventi abbiamo una serie di eventi gestibili sui form sugli input qui parliamo in particolare di input quindi tag input e a noi quello che interessa di più è il change perché perché ci dice che qualcuno sta lavorando nel valore del form di quella casella anzi del form dell'input ok e e questo ci servirà moltissimo in react perché faremo i form di tipo controlled e quindi ogni volta che c'è una modifica dobbiamo andarci aggiornare uno stato e in generale ci può servire perché ogni volta che c'è qualcosa che cambia ci piacerebbe poter essere notificati dal codice quindi dall'ambiente del browser in maniera da poter eseguire del nostro codice dire hai sbagliato oppure non dire nulla perché rileviamo che deve ancora finire l'input fare tutto quello che desideriamo ok facciamo qualche qualche prova quindi io lascerei perdere questo esempio del form tanto questi sono eventi del form quindi li collego al form io recupero il form qui ho fatto un query select tanto per variare un po' non poteva mettere un id far get element by id va benissimo ma tanto per fare un po' di come dire di qualcosa di diverso ho messo query selector quindi questo è un selettore valido css uno di quelli che in realtà non abbiamo visto cioè specifico il come si chiama il tag con un certo attributo ok si può fare anche questo css ci sono tanti modi di specificare i selettori punto css e poi una volta con il riferimento sono a posto come prima una volta con il riferimento ci faccio inner text inner html append child eccetera e c'è anche add event listener posso agganciare l'evento che desidero che va scritto come stringa così hanno deciso quindi devo sapere il nome esatto e poi metto la callback che voglio sia eseguita quando si verifica l'evento nelle slides era sempre questo console log perché così compattiamo il codice però possiamo fare quello che vogliamo possiamo modificare il DOM possiamo far sparire dei pezzi possiamo fare tutto quello che desideriamo ok la cosa più semplice è iniziare il console log aprite la console fate clic fate una prova e vedete se viene fuori la stampa se viene fuori la stampa avete agganciato bene l'evento e quindi potete andare avanti col vostro codice ok prevent default va bene l'abbiamo detto quindi è una delle cose che posso fare come prima nella callback event ricordatevi event c'è sempre è la definizione di add event list quindi il primo parametro è event se io lo metto la differenza no prima l'ho messo si event solo che non l'ho usato se lo metto ho a disposizione i metodi su event cioè prevent default che è importante fare sul form perché se no mi va a caricare di default una nuova pagina è come l'azione del click sul link no l'azione del submit bottone submit nel form va a caricare una nuova pagina cosa che io come sempre non voglio ok qui abbiamo finito quindi diciamo passiamo alla parte pratica e oggi dedichiamo un po' più di tempo alla parte pratica ma perché poi in laboratori in effetti avete questo da fare quindi ecco prima di andare a agganciare i vari eventi no agganciamo gli eventi e poi ci manca il tempo c'era un altro esempio che io avevo avevo fatto che era dove era bot content era per creare dal nulla tutto il contenuto ok ma lo vediamo dopo se ci resta tempo nel senso ho ripreso il codice vecchio le varianze eccetera ogni oggetto l'ho trasformato con create node eccetera eccetera e ho riempito un documento html vuoto che è quello che cioè vuoto con la tabella vuota che è quello che dovrete fare poi in laboratorio però dovete poi agganciare anche degli eventi guardi alla parte è più difficile che agganciare gli eventi perché come creare dei nodi e metterli l'abbiamo già visto create append child eccetera se ci resta tempo lo guardiamo in aula se no ve lo metto a disposizione quindi noi diciamo che abbiamo il contenuto già a disposizione quindi è la pagina di prima che appunto ci da questa visualizzazione c'è questo time va bene lasciamolo pure lì proviamo ad agganciare degli eventi per esempio agganciamo un evento al bottone vot voglio votare e dire fare più uno diciamo che il bottone action fa più uno ok potrei avere un bottone più un bottone meno quindi fargli fare più uno meno uno insomma potete fare quello che volete cominciamo con una cosa semplice per ora schiaccio non succede nulla neanche nella console non capita nulla perché perché questo è un button come dicevo prima abbiamo messo i button quindi un button button primary vabbè così gli da l'aspetto carino di bootstrap e ci scrivo dentro quello che voglio se non aggancio un evento questo button non fa nulla avrà magari un comportamento di default adesso non l'ho visto sì se schiaccio si diviene laureola azzurra ma questo è bootstrap è il comportamento di default dei bottoni di bootstrap ma non è cioè avrà agganciato un evento bootstrap ma possiamo agganciare anche il nostro evento ok il nostro evento adesso lo agganciamo dove lo scriviamo lo scriviamo nel codice non andiamo a scrivere in html non è che apriamo uno script o qualcosa noi abbiamo il nostro file che carichiamo all'inizio e all'inizio fa tutto quello che deve fare ok quindi se deve predisporre degli handler per gestire degli eventi lo fa ok quindi allora prima di tutto dobbiamo prendere l'elemento che ci interessa e andarlo e andarci a fare sopra ad event listener e poi ci scriviamo una callback che faccia quello che vogliamo cominciamo col console log e poi vediamo cosa può fare allora agganciare agganciare un elemento dell'html e dobbiamo capire come agganciarlo allora uno può fare id uguale bottone 1 bottone 2 bottone 3 bottone 4 va bene però questa cosa va scritta nell'html o va creata nel momento in cui creiamo l'informazione html possiamo fare così nulla di male ok come sempre vi faccio vedere qualcosa un po' più interessante perché spero vi torni utile quindi usiamo un modo un po' diverso il getelementbyid l'abbiamo appena usato andiamo a fare per esempio let prendiamo la prima riga ro uguale come facciamo agganciare la prima riga allora la prima riga è dentro una tabella che figlia vabbè dvd score table potevo fare getelementbyid e poi cercare il figlio però non lo faccio perché voglio farvi vedere una cosa diversa voglio provare a prendere table quindi document get no come query selector non get query selector e scriviamo un selettore css table tr ok cosa vuol dire quando mettiamo uno spazio altro vuol dire cerca il tr dentro il table ok per farvi vedere qualcosa di un po' più carino se no facciamo query selector c'è solo una tabella cerca il tr ho finito ok va bene adesso ho riferimento alla riga ok cosa faccio posso andare a cercarmi il bottone potrevo mettere button si può fare si può fare non lo faccio perché perché provo a agganciare l'evento alla riga così vediamo che qualsiasi cosa può avere degli eventi agganciati e poi dopo magari lo mettiamo sul bottone però row add event listener ok evento click il click praticamente funziona dovunque nella vostra pagina è uno degli eventi che praticamente funziona dovunque l'ho mettata virgola l'add event listener si aspetta due parametri il secondo è listener che è un riferimento a una funzione quindi noi dobbiamo scrivere questa verità callback e praticamente tutte le callback degli listener ne scriviamo così event freccia si aspetta un unico parametro event e poi scriviamo il nostro codice apro la grafa perché non so quanta roba scrivo non ho niente di particolare da ritornare quindi ritornerà undefined va bene così di solito negli event listener faccio delle azioni scrivo del codice per modificare il DOM scrivere in console carico dei dati faccio delle cose di questo tipo e non è che ho da ritornare dei valori se vado a fare delle elaborazioni le metto in qualche variabile dentro l'ambiente di esecuzione quindi saranno a disposizione per le altre funzioni quando vanno a leggere quelle variabili ok quindi io qui faccio una cosa semplicissima facciamo il console log quindi cominciamo con la cosa più facile console log e quindi cliccato ok va bene quindi ho salvato ho qua ho salvato ok non è cambiato niente nella pagina perché perché ho solo agganciato un event listener non una roba interna al DOM non è che ho cambiato l'aspetto però se clicco non succede nulla c'è sempre uno va bene allora andiamo a fare un po' di debug così tanto cosa mi sono scordato boh non lo so allora tra le varie cose che posso andare a debaggare dovrebbero esserci anche cos'è la tabella dove è andata no facciamo così potete anche andare a selezionare direttamente sopra facciamo prima ah ho preso la prima riga mi sa che mi sa che c'era l'header vero cliccato ah vedete com'è facile sbagliarsi no quindi riproviamo non devo inissere si ok occhio sta continuando a scrivere solo che se c'è lo stesso output questo debugger mi scrive guarda è tre volte che c'è scritto cliccato quindi ogni volta che io clicco questo comportamento non so se si può disabilitare facilmente ogni volta che io clicco clic 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 aumenta il numero eh se faccio qualcosa di diverso eh io ne so ciao non fa niente tanto non fa niente se io riclicco viene sotto eh perché c'è una cosa diversa per evitare che mi si riempia la console di messaggi uguali mi mettono il numerino ok quindi ogni volta che faccio clic c'è l'event list e mi fa console log cliccato allora mi sono sbagliato ho preso la prima riga infatti quando mi discosto dall'esempio che ho pronto c'è sempre qualcosa che non va va bene la prima riga era l'header ma di per sé noi abbiamo fatto una cosa che funziona anche cioè indipendentemente da dal da quello che abbiamo fatto cioè da quello che volevamo fare ha funzionato no perché ha funzionato perché ho scritto tr ed era un tr no anche l'header era un tr ecco cosa ho agganciato ho agganciato tutta la riga quindi se io clicco qui a sinistra adesso facciamo di nuovo se io clicco qui a sinistra su date cliccato non è che ho agganciato non c'è manco il bottone no qualsiasi elemento e in particolare qui l'elemento qual è è il tr sul quale ho agganciato questo no questo qui evidenziato quello azzurro se io clicco nell'area azzurra si scatena l'evento perché l'elemento occupa quello spazio lì e il click è sensibile allo spazio clicco dentro clicco se non ho cliccato dentro ecco quello che volevo farvi vedere prima è che c'è il browser spesso così cortese che ci dice anche c'è un evento attaccato a questo nodo ok clic guarda quanto è bravo firefox per questo che mi piace e ci dice pure che il codice ha collegato event console log cliccato ok quindi possiamo anche fare un minimo di debug che vi è utile soprattutto giovedì la prossima esercitazione perché poi quando entriamo in react ci sono gli eventi virtuali e tutto questa cosa diventa meno utile però insomma ok allora facciamo qualcosa un po' migliore quindi sempre nel nostro codice abbiamo visto che possiamo far agganciare diciamo qualsiasi evento a qualsiasi evento compatibile come il clic a qualsiasi elemento del DOM allora andiamo ad agganciarlo su qualcosa di un po' più interessante quindi andiamo a prendere il bottone quindi in realtà proviamo già che ci stiamo ad agganciarlo a tutti i bottoni così velocizziamo un po' le operazioni allora table table tr query selector prendiamo tutte le righe così abbiamo qualcosa da scorrere quindi io modifico il codice e faccio query selector all selector all quindi adesso non mi ritorna più solo il primo mi ritorna tutti quindi lo chiamo rows ok e poi cos'è un array no? solita cosa posso anche farci il for each se volete dovrebbe funzionare for each però diciamo oggi mi sento meno meno come dire meno functional programmi let row off rows quindi mettiamo la graffa in fondo aggiustiamo un po' la formattazione row add event listener e va bene questo e questo ci scrive cliccato adesso abbiamo un event listener per ogni riga mi piacerebbe avere qualche formazione in più nel console log poi passo sul bottone però abbiamo un event no? event l'event può anche essere stampato quindi event event è l'oggetto ok? su event ho tante proprietà di solito quella che mi interessa di più è il target perché target si chiama target ma in realtà è la sorgente dell'evento purtroppo ha questo nome così che trae in inganno si chiama target ma è quello che ha generato l'evento quindi questo è il riferimento come row come rows eccetera ad un elemento nel dom che io posso prendere manipolare fare usare come voglio qui adesso lo stampo solo perché così vedo cosa succede però dopo lo prendiamo e ci andiamo boh non su questo vabbè fa niente e andiamo a vedere che cosa che cosa succede quindi quindi stampo in più event target così intanto vediamo cosa c'è dentro event riproviamo ricarico devo sempre attendere un attimo perché questo boost arriva dalla rete un po' lento finché non arriva non può essere applicato il css ok allora clicco sulla seconda riga però mettiamo la console clicco sulla seconda riga cliccato clicco sulla terza riga cliccato cos'è l'event target è questa roba che viene mostrata qui a sinistra è il nodo del dom io prima ho cliccato sulla riga appunto Alice poi ho cliccato sulla riga Harry quella dopo lo vedete che sono sono gli elementi che hanno ricevuto il click ok tra l'altro occhio che io l'event miss ne hanno messo sul tr e questo è il td quindi è l'evento più interno che ha ricevuto il click ok quindi bisogna sempre un po' fare attenzione ma fate un po' di pratica e che so se io provo qui button ok e il bottone quindi l'event target è l'elemento html più interno che ha ricevuto l'evento ok allora adesso che abbiamo capito questo meccanismo che facciamo facciamo qualcosa di un po' più interessante cliccato è un po' grezzo quindi diciamo non è sbagliato però console log poi modifichiamo qualcosa però prima ancora un console log e di cosa andiamo a prendere row row sulla row ci sono quanti no l'esempio non c'entra l'esempio posso chiudere sulla row ci sono uno due tre quattro cinque children cinque figli proviamo a farci stappare ma si questo il tre il voto quindi 0 1 2 3 il numero cioè l'indice tre il quarto quindi l'indice tre console row children è una delle varie proprietà che avete a disposizione sui nodi e children potete fare child nodes eccetera diciamo noi qui ci ha contattato i children facciamo un po' prima tre e questo però è il riferimento se io voglio il testo devo dirlo come scrivo ci leggo inner text ok quindi salva vediamo se funziona c'è sempre la sorpresa quindi io clicco sulla riga ecco non funziona no non è funzionato ok era un po' lento clicco qui sotto meno due clicco per qua tre ok quindi l'evento è sulla riga quindi la riga vi ricordo la riga è tutta dov'è questo è quello che riceve l'evento tutta la riga questo momento non ho messo il bottone tra poco metto il bottone ok però in questo momento ho messo la riga prendo dalla riga il quarto elemento figlio quindi quello di indice 3 vado a vedere cosa c'è scritto dentro il tag inner text e lo stampo e c'è uno se ho cliccato su questa riga qua ok vi faccio notare una cosa del codice questa è una callback da dove arriva row row è visibile in questo momento la callback è la riga sulla quale noi stiamo agganciando l'event listener come fa la callback messa con l'event listener a ricordarsi su quale riga no? deve eseguire l'operazione cioè console.log row se io ho cliccato sulla seconda riga viene fuori la seconda riga e quindi mi va a prendere il quarto figlio della seconda riga e se invece clicco sulla prima viene quello della prima e così via no? com'è che funziona questo meccanismo? questo è proprio il classico posto dove si vede in azione il meccanismo della closure di javascript no? cioè quando event listener mi chiamerà la mia callback io sono fuori da questo scope ma la funzione questa qui la callback che io ho passato ad event listener si ricorda la riga la row che era visibile quando la funzione è stata dichiarata quindi siccome io facevo tutto dentro un fuori al primo giro c'era la prima riga al secondo giro c'era la seconda riga al terzo giro c'era la terza riga e così via ok? quindi questo meccanismo della closure che ci pareva tanto strano che forse vi ha lasciato un po' perplessi perché gli esempietti che abbiamo visto quando l'abbiamo spiegato forse erano un po' banali adesso capiamo perfettamente cosa ci serve perché se non ce l'avessimo non riusciamo a scrivere una cosa di questo tipo dovremmo essere sempre lì su sto event target perché l'unica cosa che ci viene passata passato dalla ad event nissen quando ci chiama la callback è ricavarci tutte le cose no? però però se ho delle strutture complicate per esempio in questo caso ho i td va bene sono tutti allo stesso livello ma metti che c'è dentro un paragrafo un altro c'è un bottone nell'altro c'è una cosa ancora più annidata e così via non so mai su cosa è stato cliccato ok? se io ho la possibilità di usare qualsiasi cosa che sia visibile al codice della callback posso fare intanto javascript ha questo meccanismo della closure e la callback quando ha bisogno si ricorderà come accedere a quell'elemento e andrà a farci sopra le operazioni l'unica cosa che dobbiamo fare attenzione è che non sia sparito cioè l'oggetto è distrutto però qui mi hanno cambiato l'esempio rispetto all'anno scorso l'anno scorso cancellavamo delle cose quindi ci spariva poi ci dava un errore però diciamo in generale se non andiamo a fare modifiche diciamo al DOM se quell'oggetto c'era c'è continua a esserci con lo stesso riverimento e quindi si può usare nella callback si? c'è una domanda? no la closure la vede dal codice nel senso che lei row vede è una cosa che è a disposizione nello scope quindi qui quando la la callback viene dichiarata quando la callback sarà eseguita e non sappiamo dove perché lo fa il browser chissà dove all'interno del suo codice la callback non ha più row nello scope ma deve ricordarselo allora nel momento in cui deve ricordarselo questa è una closure ok ma invece il fatto che per creare un event listener per ogni riga ha dovuto mettere il for e per la pronuncia sincrona no per per creare un event listener ho dovuto mettere il for no è solo perché volevo un event listener per ogni riga non sono ancora in coda sono solo è solo detto che su quel nodo se succede un click dovrà essere messa in coda questa callback ma in coda ci va solo al momento del click ok se io cliccassi rapidissimamente su tutte le righe e più rapidamente di quanto possa essere eseguito console log gli altri click mettono in coda le altre callback e finché la prima non ha finito stanno in coda poi finisce passa la seconda passa la terza e così via ma in coda ci va solo nel momento in cui si verifica l'evento ok anche questa domanda è interessante cioè nella coda delle callback ci si finisce quando si verifica l'evento e allora cosa capita con l'advenc cloud event listener si dice solo guarda che se si verifica l'evento devi eseguire questa callback quindi è stata diciamo così registrata acquisita non so segnata chiamatela come volete dal nodo del dom e il browser ha tutta la visibilità sul dom tutta la visibilità sugli eventi ogni volta che c'è un evento va a vedere se su quel nodo su cui si è verificato l'evento su un nodo padre come in questo caso la riga e c'è una callback registrata per quell'evento se c'è la prende e la mette in coda delle callback e poi l'esecuzione va avanti come sempre ok se è occupato a fare altro aspetta se è libero lo esegue ok mi raccomando questo è veramente fondamentale da capire perché se qui mettessimo foro un miliardo il prossimo clic aspettiamo che il foro un miliardo abbia finito di girare ok facciamo una cosa più interessante facciamo funzionare e cioè facciamo cambiare il voto ok quindi qui l'abbiamo stampato diciamo diciamo che facciamo ehm ehm buono anche const score uguale row children quindi quello di prima children 3 inner text ok ehm const new score score più 1 ok proviamo così banalmente eh row children 3 children 3 children 3 inner text uguale new score vediamo se funziona e questo lo so già che è un problema ehm almeno non è una sorpresa va bene ecco ci divertiamo adesso per ora non è ancora sul bottone è su qualsiasi elemento della riga anzi faccio anche togliere questo che non ci serve più tic tic ehm più 1 quello che leggete dal DOM è sempre una stringa se ci dovete fare dei conti dovete ricordarvene ehm non c'è niente di permanente se ricarico la pagina sparisce tutto perché al caricamento c'è quello che c'è scritto nell'html quindi come aggiustiamo parse int parse int è una di quelle funzioni che abbiamo visto forse non è addirittura nella prima lezione eh già va scritta la conversione implicita di tipo ma ogni tanto ci serve farla esplicita eh nel senso dobbiamo forzare un tipo e se una stringa stringa non è che c'era tanto da ragionare beh no era stringa numero a dire la verità a prevarci la stringa ok se avessi messo virgolette 1 non c'era dubbio forziamo il primo valore a diventare un intero ovviamente ci sarebbe da gestire il caso in cui non è un intero no perché parsint ci darà un errore se non è intero eh riproviamo quindi ho salvato riprovo ok adesso funziona come ci aspettiamo ok come facciamo ad attaccarlo solo al voto devo devo trovare una maniera di agganciarlo al voto no quindi facciamo così row cos'è query ma sì query selector button ok punto ok add event listener adesso vediamo vediamo se cosa succede vediamo se la consorce qualche errore ecco perché perché devo fare attenzione sempre è bellissimo mettere le cose una dietro l'altro però se poi becco l'elemento che è null perché non c'è eccetera devo sempre ricordarmi che l'html lo creo io lo modifico io qualcuno qualche funzione la modifica e devo sempre essere attento a quello che succede che è presente nel DOM quindi cos'è questa linea 15 penso sia la prima riga quindi facciamo così let b uguale facciamo così if b e facciamo b così mi risparmio di aggiustare il for per fare solo il giro dove funziona ok è molto grezza come aggiustamento però diciamo che ci accontentiamo per ora c'è contro lì ok riproviamo ok almeno javascript il console non protesta dateci sempre un'occhiata alla console perché all'esame ecco diamo un po' un'occhiata alla console anche perché ci viene fuori dalla console perché react poi ce la porta fuori quindi si vede subito se ci sono tanti problemi no errori non devono venire fuori all'esame possibilmente perché di solito vuol dire che è un malfunzionamento possono uscire dei warning poi ci ragioniamo quando abbiamo react adesso vediamo se il bottone funziona speriamo sì e se clicco fuori non funziona più quindi questa volta l'evento l'ha agganciato su vote occhio che anche il più era un bottone eh quindi none eh quindi sempre da fare attenzione ok quindi quindi come aggiustiamo bisogna inventarsi qualcosa non so avere se le righe le generiamo noi che sarebbe la cosa che mi sarebbe piaciuto farvi vedere ma non non riesco a farvi vedere quindi ve la metto solo online eh quindi questo è il qua script che avevo creato e che vi metto poi online no se no eh vote vote no delete e dove ah content ecco se io le righe le creo io cioè le creo con create element id create text node eccetera 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 button eh qui ci va niente a mettere solo sull'elemento che mi interessa add event listener e ce lo metto già direttamente in fase di creazione e io qui so che le righe che sto creando sono effettivamente solo quelle col bottone ok quindi l'add event listener lo posso mettere qui ok questa è una possibilità in laboratorio vi sarà richiesto di avere la lista cos'era dei film quindi farvi un un for no quindi dove che era questo for qui let hands of answer list mi creo l'elemento e faccio append child e me lo creo parto da o qua senza contenuto quindi da una tabella vuota e il codice java scritto mi mette dentro il contenuto e mentre li creo posso metterci il joven listener che voglio e fare tutto quello che desidero ok vi faccio ancora vedere solo un'ultima cosa ossia che questo è il nostro codice si quindi se noi prendiamo il qua noi abbiamo caricato il nostro script qui col defer proviamo a togliere un attimo il defer ok ho tolto il defer quindi cosa succede senza il defer succede che spero che si sia ricaricata no ecco succede che lo script viene eseguito all'inizio prima che ci sia tutto l'albero del dom e quindi intanto dayjs non è definito mi ha già fregato va bene va bene e facciamola girare prima ok volevo farvi vedere che succede ecco no questo invece è una delle cose che voglio che succedano cioè voglio volevo farvi vedere get element by id eccetera linea 6 cosa c'è alla linea 6 il time div id time nell'html c'è perché non si apre eccolo qua nell'html c'è ma in quel momento lassù non c'è ancora nel dom quindi io non posso fare queste azioni come potrei aggiustare giusto per farvi vedere un evento diverso che non sia il click e poi chiudiamo come posso aggiustare qua script è diventato tutto letto ok aggiusto così window anche window ha il suo evento add event listener che evento prendo prendo l'evento load aspetto che sia caricato tutto ok virgola e poi cosa ci metto va bene event ma l'event qui non mi servirà nulla prendo la chiusa ton e la chiusa graffa la metto in fondo da tutto riformato ok questo è il bello di javascape prendete un chilo di codice lo mettete dentro un'altra funzione una callback e potete farlo ok benissimo ricarichiamo e si è ricaricato quasi ho perso dov'è che l'ho persa sotto prima eccola lì grazie mille anche il fine ora preme ho caricato si non c'è più l'errore e dovrebbe funzionare vabbè c'è qualcosa ancora che non quadra ma dovrebbe funzionare comunque non c'è più l'errore di sotto forse c'è ancora qualcosa che mi sfugge funziona? ah bravo funziona oggi è lento oggi non andavo al proiettore oggi c'è tutto che non va vabbè ok quindi cos'è capitato che io ho caricato senza il defer cosa che vi sconsiglio è solo per fare questo esempio per vedere l'od se no l'od non mi serve se io metto il defer è tutto dopo l'od ok però posso aspettare qualsiasi evento su qualsiasi cosa e posso metterci dentro qualsiasi codice ritenga ok quindi io ho messo dentro il load tutto il codice da eseguire quando la pagina è stata caricata che può essere settare l'intervallo per fare il timer e vedere l'ora e tutti i vari bottoni con il vote eccetera ok quindi in laboratorio dovrete uno caricare i dati da un array e creare gli elementi del DOM appenderli a farli comparire e due mettere dei listener mi sembra sui filtri e quindi ogni volta ricaricare i dati quindi ricreare la struttura del DOM a seconda del filtro selezionato e avete tutti gli elementi per provare ok se avete dubbi o domande volentieri se no noi ci vediamo martedì prossimo in laboratorio ci sono i miei due colleghi questa settimana ok ok